Questa era così, va bene, e questo era qui, guarda, e questo era qui, guarda, è di festa della lepre, lo vedi? Ancora un brutto risveglio per Flavio Sisi, portavoce delle sagre paesane Aretine, che questa mattina ha trovato dentro il cancello di case di fronte all'abitazione a Venere, frazione alle porte di Arezzo, una spiacevole sorpresa. Questo è il terzo atto che viene fatto contro di me, hanno preso la foto che io avevo reso pubblico dopo che mi avevano messo questo corpo di lepre dentro il giardino di casa, ne hanno fatto una stampa e questa notte sono passati e hanno messo sopra la foto della nostra dea Venere la lepre e di là hanno tolto il nome dea e ci hanno scritto festa della lepre. Uno scherzo di pessimo gusto sommato anche ai maccheroni che mi hanno curiosamente messo dentro il cancello di casa e con la scritta, la lepre l'hai avuta, ora facci il sugo. Scherzo di pessimo gusto sì, ma che non voglio far passare sotto traccia in nessun modo, perché chi è stato è l'ora che paghi. Come si vive adesso? Si vive male, ma specialmente mi spiace non tanto per me quanto per mio figlio che è piccolo e che è giusto che non veda certe cose, e per la mia gente di Venere che proprio sotto il periodo di sagra ha paura che vengano fatti scherzi e che abbiano dopo una valenza economica grave. Ovviamente la vicenda è stata già portata all'attenzione delle forze dell'ordine. Ho già avvisato la DIGOS che essendo salvato oggi in settimana andrò a fare una integrazione di quello che già è agli atti.